Eccoci qui con Paolo Palmaci dopo la vittoria della Domus Bet Catania sul Palazzolo, due partite, due vittorie e soprattutto una gran prestazione anche quest'oggi. L'importante era fare bene. Dopo i cambiamenti che ci sono stati in settimana, l'importante era fare bene. Ci siamo riusciti, stiamo difendendo anche bene. L'importante è quello, abbiamo subito solo due gol su calcio di rigore, quindi andiamo avanti così, lavorando sempre di più. Doppia cifra ieri, doppia cifra oggi. Beh, dicevi difendiamo bene, però anche la davanti, insomma, la vera realizzativa è quella dei giorni belli. Se difende tutto la difesa, difendi bene e poi attacchi alla grande. Noi comunque siamo una squadra costruita per il gioco offensivo, quindi quando siamo in giornata e ci riescono le cose andiamo bene. Grazie mille, grazie a Paolo Palmaci. Grazie, grazie.